Si è svolta in un clima di profondo entusiasmo, Pompieropoli 2019, presso i locali dell'oratorio di Monasterace. Moltissimi bambini, fin dalle prime ore del mattino, hanno avarcato le porte di quella che è sicuramente una delle manifestazioni più attese dai ragazzi. Sotto il simbolo della capacità di fare squadra, sfruttando al meglio le potenzialità di ciascuno, questo perché un vigile del fuoco deve avere molte caratteristiche, oltre quelle tecniche di grande umanità e di amore. I più piccoli hanno così potuto ripercorrere una perfetta riproduzione in miniatura della vita del vigile del fuoco, con giochi e prove di abilità. Al termine del percorso è stato rilasciato anche un diploma di merito per la partecipazione attiva a Pompieropoli 2019, in qualità di vigile del fuoco junior. L'appuntamento dunque è per il prossimo anno. Allora, praticamente questa iniziativa è nata con il comando dei vigili del fuoco di Reggio Calabria. Praticamente è un'attività che abbiamo fatto in collaborazione sotto forma di gioco e educazione, cioè far capire sotto forma di gioco quello che è realmente il compito del vigile del fuoco. Le mansioni che esso svolge, sappiamo una figura molto importante sul nostro territorio, in quanto ci sono incendi boschivi, vengono chiamati per varie attività, tipo quando si chiede qualcuno fuori casa, cioè vengono chiamati sul nostro territorio per qualsiasi cosa noi abbiamo bisogno. Ogni intervento loro sono pronti e allora diciamo che questa iniziativa è nata proprio sotto questa forma di far capire ai bambini quello che è il loro compito sotto forma di gioco, perché come ben sappiamo i bambini sotto forma di gioco apprendono in maniera molto più facilmente e in maniera molto più positiva, quello che è il messaggio che la società vuole dare.